Italo Testa, presidente del Forum per la Sanità Pubblica di Qualità, non fa tanti giri di parole e va dritto al cuore del problema. Quello che è avvenuto a Termoli non è un caso di mala sanità, ma la cronaca di una morte annunciata. Poi rincara la dose e nonostante l'afa di luglio, un brivido di gelo scorre lungo la schiena dei presenti alla conferenza stampa organizzata dal Forum per commentare la morte dell'uomo di Larino. Verranno altri morti, ci saranno altri morti, profetizza Testa. Il piano di emergenza, urgenza, prontato da frattura e dalla struttura sanitaria, non garantisce i livelli essenziali di assistenza, ma a dirlo non siamo noi del Forum, ma il Tavolo Tecnico Nazionale. Un piano costruito a tavolino, prosegue Testa, senza tener conto delle caratteristiche del territorio e in particolare della rete stradale fatiscente, che in questo caso è stata fatale. Una cattiva organizzazione è questa la causa che a detta del Forum e di moltissimi osservatori è alla base di un caso che ha portato il Molise alla ribalta nazionale, con tanto di ispettori inviati dal Ministero. Queste sono morti annunziate, l'avevamo detto, siamo rivolti più di una volta, siamo andati ai vari prefetti, siamo andati alla Procura della Repubblica, siamo andati dovunque per denunziare questa situazione, che poi non è una situazione che denunziamo solo noi, se leggete quello che dicono i tavoli tecnici, non sono garanti di lea, specialmente per quella che è l'emergenza urgenza. È una situazione veramente drammatica che avrà altre conseguenze. Insieme alla denuncia il Forum passa all'azione per sabato prossimo, 21 luglio, alle ore 19, prevista a Larino una manifestazione che nell'arco di qualche giorno verrà replicata anche a Campobasso. Sabato ci sarà una grossa manifestazione a Larino, speriamo grossa, invitiamo tutti i cittadini che sono interessati alla salute pubblica di venire a Larino alle 7 la sera di sabato per questa manifestazione che vuole essere di protesta e di proposta verso la nuova amministrazione. Ad inchiodare alla colonna infame la riforma sanitaria varata da frattura c'è un dato drammatico, anche in questo caso arriva dal tavolo tecnico, il 26% dei molisani è costretto a ricovero fuori regione per casi acuti, quindi legati all'emergenza a fronte di una media nazionale attestata sull'8%. Nei casi invece in cui si rimanga sul territorio il tempo di intervento per l'emergenza urgenza è di 21 minuti, anche qui una media altissima, anche qui paradossalmente il dato arriva da quel tavolo tecnico che ha imposto ai molisani regole draconiane e davanti al quale frattura ha risposto sempre e solo con una parola. Signor sì.